A fine allenamento sono qui con Alexander, nuovo schiacciatore del Conadre Gemiglia. Con questa settimana avete finito la preparazione, siete soddisfatti del lavoro svolto fino a qui? Personalmente molto, è stata una preparazione molto lunga, abbiamo iniziato una settimana prima delle altre squadre, abbiamo lavorato molto intensamente le prime quattro settimane, però penso che posso dire a nome della squadra che siamo tutti molto contenti del lavoro svolto fino adesso. Anche le partite sono andate bene, sono andate molto bene, ad eccezione dell'ultima, e speriamo di iniziare il campionato al meglio. Appunto per questo, dopo la sconfitta con Santa Croce, sabato scosto un torneo, cosa avete provato a migliorare in questa settimana? Dopo la prima sconfitta stagionale, diciamo, anche se era un torneo amichevole, abbiamo lavorato un po' sul cambio palla, comunque a muro, manchiava tutta la ricezione, che sono i fondamentali che abbiamo sofferto un po' nella seconda partita. Il resto abbiamo provato un po' il gioco e speriamo di rifarci con Monaco subito domenica. Ci troviamo al Palaenza, fine allenamento con Giulio Silva, scacciatore del Conadre Gemiglia, un rientro nella squadra di Conadre Gemiglia. Come ti pare quest'anno questa nuova squadra? Mi sembra un ottimo gruppo, sia dal punto di vista di coesione, proprio tra gli elementi, che dal punto di vista tecnico. Adesso puoi iniziare il campionato, quindi avremo risposte un po' più concrete, però secondo me l'organico è decisamente molto buono. Siete appunto al termine della preparazione, quindi vi sentite pronti per l'inizio del campionato? Sì, abbiamo lavorato tanto, duramente, sia dal punto di vista tecnico che fisico, e quindi ormai c'è tanta voglia di iniziare, anche per capire, anche per avere risposte sul nostro punto, sia fisico che tecnico. Vediamo, comunque ci sentiamo pronti e speriamo di iniziare nel migliore dei modi. Domenica avrete l'ultimo test, giocherete qui al Palaenza contro una squadra di Monaco. Che livello di gioco vi aspettate? Essendo una Super Lega ci aspettiamo un livello alto, sicuramente sarà un bel test, sarà bello anche giocare con una squadra straniera, che non capita spesso per noi, quindi insomma vediamo un po' di avere delle risposte importanti in vista della prima di campionato. Grazie.